Il Comune di Teramo ha presentato nel primo incontro organizzato con portatori di interesse e associazioni cittadine il percorso di rigenerazione urbana denominato Teramo Città Capoluogo, un progetto di valorizzazione e comunicazione istituzionale della città finalizzato alla diffusione di dati e informazioni legate ai piani di rigenerazione urbana, di ricostruzione post-sismica pubblica e di riqualificazione del territorio comunale. Sono quasi 14 milioni di euro che il Comune metterà in campo grazie al fondo complementare sisma del PNRR. Teramo Città Capoluogo presenta il pacchetto PNRR sisma in modo organico, un pacchetto che vede al suo interno interventi importanti come il mercato coperto, la riqualificazione della viabilità del centro storico, l'ipogeo ma anche e soprattutto interventi importanti e significativi all'interno delle frazioni. Oltre circa 5 milioni di euro sono dedicate a borghi, quartieri, frazioni del nostro territorio, segno di una necessità che è quella a cui stiamo rispondendo, cioè la ricucitura tra il centro e le periferie, la riqualificazione di borghi importanti come quello di Forcella, Frondarola, Valle San Giovanni. Non li posso citare tutti perché abbiamo dei borghi bellissimi, ma la scelta è proprio quella di riqualificare la città capoluogo partendo anche e soprattutto dalle periferie, meravigliosi borghi su cui dobbiamo investire e su cui dobbiamo proporre un'attrattività di una città che ricuce appunto il centro con le periferie. Il prossimo passo sarà quello di organizzare incontri dedicati e specifici con il territorio. Abbiamo già tutti i progetti cantierati di fatto, alcuni in fase di conclusione delle procedure e questi progetti devono ovviamente dialogare con tutte le altre progettualità del PNRR. Tra i progetti più importanti c'è il recupero e il rilancio del mercato coperto. Il mercato coperto che è più impegnativo va in appalto integrato, quindi andrà in un appalto che affiderà sia l'esecutivo che i lavori. Noi abbiamo già deciso cosa fare del mercato coperto, abbiamo già presentato l'idea, il progetto finanziato con il PNRR Sisma. Nelle prossime settimane decideremo insieme a tutta la comunità come sarà il mercato coperto. Lo decideremo insieme così da poter far partire i lavori nei primi mesi del 2023.